Sicuramente un momento molto alto di tensione perché è inevitabile, visto la posta in paglio e visto il senso di responsabilità che ognuno di noi deve avere, per cui è inutile negare. C'è la positività e la possibilità di ribaltare questo risultato e noi lavoriamo e cugliamo questo sogno e questo obiettivo, però sapendo e avendo ben presente il fatto che è una partita importante per tutti noi ma anche per la nazione e per la storia della nostra nazionale.